Sì, adoro il mio lavoro, faccio un lavoro fantastico, ma questa settimana con i preparativi per la gara è tutto un po' folle. Bisogna essere davvero super, super attenti. Sono tutti in acqua, non mi posso distrarre un attimo. Ma sai una cosa? Ho una media pazzesca, non ho mai perso nessuno. Sì, ci sono stati momenti difficili, ma... Aiuto! Oh, Arnold, mi giro per un istante!